Si è tenuta all'interno della Sala degli Specchi del Comune di Bitonto la presentazione della stagione teatrale 2019-2020 del Teatro Traetta, o meglio, di una parte della stagione che invece verrà presentata in toto fra una decina di giorni circa. La stagione speciale, intitolata Il Comico è una cosa seria, sarà dedicata totalmente all'attore barese Gianni Ciardo, che in un incontro più comico che serio ha illustrato tutti i suoi progetti teatrali che si terranno da novembre 2019 ad aprile 2020. Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Michele Abaticchio e dell'assessore al marketing Rino Mangini, Maddalena Tulanti, consigliera del CDA del Teatro Pubblico Pugliese, ha sottolineato ancora di più l'importanza della partnership fra i due teatri, che in questa settima stagione collaboreranno ancora insieme. Oltre al fatto che il nostro fiore all'occhiello sarà il punto di riferimento per tutte le prove generali degli spettacoli che andranno poi in scena al Teatro Petruzzelli. Sei spettacoli che spazieranno dagli adattamenti del romanzo di Baricco 900 a Pirandello, passando per la casa di Bernalda Alba di Federico Garcia Lorca, rivisitate dal comico barese che abbiamo cercato di intervistare a fine conferenza stampa. Nostro ospite Gianni Ciardo, che abbiamo trovato qui al Comune Aluare, io ho cercato di starle dietro a questa conferenza stampa, non è stato molto facile. Non lo so, ti devo dare del tu, perché siamo del sud, diamoci del tu per piacere. Così ci sentiamo più vicini. Così ci sentiamo più vicini agli italiani. Allora, sei contento di questo regalo? Perché tu non hai ancora capito che sei questo, è un regalo, una commemorazione. No, non ho capito, no, sì, commemorazione l'ho detto per ridere un po', anzi, mi posso anche vantare, perché è la prima volta che si fa una commemorazione a uno ancora vivo, di soli si fanno i morti, quindi sono originale anche in questo e grazie anche al sindaco Michele Baticchio che ha voluto questa cosa, questo regalo, questo premio che mi sta facendo. E io sono veramente onorato proprio di essere, che ne so, ospitato da Bitonto che conosco da sempre, che ho frequentato pure e quindi sono veramente, penso nonostante me stesso non riesco a trovare il termine per definire questa contentezza di questo regalo. Senti, ci parli invece del tuo progetto, perché abbiamo visto che spazi da una parte all'altra all'interno delle opere che presenterai al Traetta quest'anno. Sì, in tutti questi spettacoli che propongo come cartellone al Teatro Traetta di Bitonto ci sono sempre io presente, però con altri attori, per cui il repertorio è vasto, salta da un argomento ad un altro, da una situazione ad un'altra, perché sia spettacolo nello stesso tempo, nonostante gli autori, da Pirandello a Chekhov e altri pure, e poi anche co-autore di me stesso. E di non riesco a starti dietro Gianni? Nemmeno io. Senti, ma il comico è una cosa seria? Il comico è una cosa seria, perciò io lo faccio, perché io sono una persona seria, nonostante me e le apparenze, perché io non sono così, mi disegnano così, e nonostante me il comico è una cosa seria. Ma è fantastica, con la patenta che si sta gonfiando. Questa è l'Aureola, la Madonna di Butterfly, la Madonna di Loretto, che poi è successo il casino della Madonna, la Madonna di Loretto è apparsa a Lourdes, sempre, va bene, di questi tempi, poi c'è la Madonna del Pozzo, oh madonna.